amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi vi presentiamo un lavoro un po particolare su una vettura altrettanto particolare perché questa è una tesla model 3 di tesla per il momento fortunatamente o sfortunatamente dipende dai punti di vista non ce ne sono capitate questa è la prima che vediamo sulla quale abbiamo fatto un lavoro particolare di cambio colore prima di intervenire cioè prima di descrivere il cambio colore due parole su questa macchina al prescindere dal fatto che appunto c'è chi piace chi non piace il discorso delle macchine elettriche io personalmente preferisco ancora le macchine termiche però è una questione di gusti personali questa è una macchina full electric come penso tutti sappiano diciamo che la caratteristica fondamentale è una macchina che ha un'accelerazione incredibile ho dato un'occhiata un po ai dati tecnici riesce a fare uno 0 100 in 3,3 secondi per cui al pari anzi forse anche meglio di delle più blasonate sportive termiche è un quattro ruote motrici con due motori separati quindi un'altra caratteristica particolare di questa macchina è due motori elettrici ovviamente separati non ha assolutamente nessun nessun motore nessuna parte di alimentazione a benzina o a gasolio che sia quindi viaggia solo in elettrico motore anteriore sul per comandare l'asse anteriore motore posteriore per comandare l'asse posteriore quindi un quattro ruote motrici con due motori interconnessi tra loro direi una vettura veramente particolare nel suo genere quindi dette fatta questa premessa il cliente che fra l'altro un mio amico ha comprato questa vettura settimana scorsa bianca c'è arrivata bianca lo si vede dai ecco per dire dei montanti qua delle delle portiere quindi nasceva bianca cioè nasce bianca lo si può vedere anche tranquillamente colore appunto bianco rimane nelle parti che non si possono appunto pellicolare che sono appunto le cenere delle portiere la parte diciamo nascosta del baule e la parte anteriore del vanno motore al cliente piaceva appunto un colore fuori standard nel senso che questo colore qua la tesla chiaramente non lo fa è un colore titanio opaco quindi un colore molto particolare adesso chiudiamo il baule in modo tale che si veda nella sua intierezza il il tipo di lavoro e questo sostanzialmente è un tipo di lavorazione che ogni tanto ci chiedono questa macchina come dicevo essendo completamente nuova l'applicazione della pellicola non ha creato particolari problemi perché una delle delle come dire dei vincoli di questo di questo lavoro è avere la carrozzeria completamente perfetta da un punto di vista diciamo di sfrisi giboli o quant'altro nel senso che se c'è appena appena un piccolo gibollo uno mette sulla pellicola e questo tipo di di gibollo viene enfatizzato io adesso passerei la parola al nostro collega Andrea che è quello che ha diciamo ci segue per tutta la parte diciamo di wrapping che è molto più esperto di me vi descrive come ha fatto questo tipo di lavoro e anche le caratteristiche del tipo di pellicola e quant'altro prego ciao a tutti piacere io sono un collaboratore di Luca mi chiamo Andrea seguo la pellicolatura delle auto in questo caso avevamo una macchina bianca quindi un colore molto visibile un po difficile da coprire abbiamo dovuto staccare praticamente tutto para urti abbiamo staccato le porte abbiamo staccato qualsiasi diciamo parte per poter fare un lavoro ad hoc e non non vedere quello che è il bianco il colore originale una volta rimontata la macchina abbiamo usato una pellicola di marca tedesca è un'ottima qualità con una durata di sette anni di vita qual è il vantaggio di scegliere una pellicola rispetto a una verniciatura è che per esempio potete trovare una macchina già disponibile in concessionario magari bianca non vi piace il colore in circa una due settimane si può trasformare con la pellicola in per esempio questo colore grigio opaco dopodiché il giorno che diciamo vi stufate del colore potete tornare al colore originale o cambiare colore senza andare ovviamente a riverniciare l'auto e quindi magari anche perdere un valore quali sono gli altri vantaggi per esempio il colore opaco in pellicola è molto più lavabile meno soggetto a usura rispetto a una vernice si può sostituire un pezzo senza avere una differenza di colore cosa che di solito sulle vernici opache con appunto la vernice si può avere una differenza la pellicola oltretutto è coperta dall'assicurazione quindi se avete una casco in caso di danni o qualsiasi cosa la pellicola è coperta anche dall'assicurazione che altro dire penso che dalle foto e dai video potete vedere la qualità del lavoro e il risultato finale quindi la descrizione tecnica mi sembra abbastanza esaustiva Andrea vi ha descritto in grosso modo quali sono i vantaggi e qual è la tipologia di lavoro la qualità del lavoro direi che parla da sola sembra che sia uscita così che dalla fabbrica io volevo aggiungere un altro diciamo dettaglio che il fatto di avere questo tipo di pellicola che copre appunto la vernice originale che in un domani uno vende la macchina toglie la pellicola e la macchina ritorna nuova esattamente come uno l'ha comprata forse questa è una diciamo un dettaglio magari secondario ad esempio in alcuni paesi dove tipo la Germania la Svizzera dove il colore della vettura è riportato sul libretto è ancora più importante nel senso che se uno cambia colore la prima cosa che viene in mente nel momento in cui uno compra la vettura che questa macchina è stata incidentata mentre se diciamo il colore viene mantenuto basta ripeto togliere la pellicola così come è stata ovviamente il lavoro di spellicolarla penso sia molto più semplice poco meno di una giornata e si riporta esattamente al colore originale come dicevo questa macchina è nuovissima perché è uscita dal concessionario è arrivata da noi quindi in un domani dovesse venderla toglie la pellicola e consegna una macchina praticamente nuova di concessionario io direi che anche per questo tipo di lavoro è tutto vi salutiamo come al solito vi ringraziamo di seguirci costantemente sul nostro canale che sta andando molto bene vi invitiamo a consultare il nostro sito www.9milagiri.it dove inseriremo anche una sezione dedicata alla tesla che adesso non c'è perché non avendone mai avuta una non c'è neanche la sezione quindi adesso creeremo la sezione tesla e questa sarà la prima che entrerà ci potete chiamare per qualunque informazione al di là del wrapping qualunque tipo di informazione come diciamo sempre allo 027383175 e soprattutto vi invitiamo a cliccare sulla campanella rimanere e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto ciao 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 ciao